This is Vitek Tape, show on air every day, indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. L'interesse di Goldie Art nella musica nasce alla giovanità di 7 anni. Nei primi anni 2000 forma la sua prima band come tastierista e si esibisce in tutta la East Coast. Dopo aver eseguito decine di concerti con diversi gruppi locali è uscito il suo primo disco, Give Me A Minute. Le circostanze hanno influenzato la sua carriera creando una miscela di R&B, Urbano e Pop, unica per questo artista che ha prodotto le sue registrazioni utilizzando strati multitraccia delle proprie performance con una grande varietà di influenze. Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Zero Call Grazie a tutti 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 Grazie a tutti